Sivir counter again Allora sarà per quello, per lo scudo Non volevo che le mie spell venissero bloccate dagli scudi di Sivir Oh, e vabbè, allora scusami tanto, perdonami Se puoi, perdonami, è una certa Io non pensavo fosse bad per Camilla da relish contro Gnar Tanto non la prende comunque la Braille se vuole Cioè se Gnar decide di pushare non ce la fa uguale Ok Ok Super aggressiva Camilla Ma le conviene? Eh, vediamo, vediamo adesso Sono rovinato Nerone Così impara ad essere arrogante Bet, 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 bet What's up I am a weapon, not some accessory Quel trade mi è piaciuto Yasuo si è avvicinato, ha preso una pizza e si è andato Era letteralmente un ceffone Non c'è Non c'è Si sente la differenza tra leash e non leash, caspita Grazie per il sub Il problema è che dall'altra parte Grazie Scusa non ho capito Ciao bro, grazie delle sub Solo che non ho capito Bene Abbiamo preso lo sistema di Yasuo Ambizioso regolare lì sino a me Oh wow No bro ma che tipi? Ma non vedi che sto andando io? Ti odio Vabbè in realtà abbiamo preso entrambi l'assist E Gnara ha flashato per cui Ok Non sono sicuro fosse necessario però Magari era meglio conservarlo? O no? Ok Certo che continuerò a giocare a Kayn Ma mi dite Continuerai a giocare a Kayn? Come se lo giocassi perché broken Indovina un po' non è nemmeno broken Non so perché lo nerfano Perché continuate a dire Ah ma lo giocherai Kayn dopo il nerf Certo che gioco Kayn Gioco Kayn per passione Così come uno stream lo faccio per passione Smettetela Smettetela di che vince il gioco Kayn Gioco Kayn perché mi piace Mi diverte È un bel campione divertente Ecco Diceva così anche di Pantheon Non è affatto vero Questa è una menzogna Wait by the river long enough And the enemy dead will reload by These trinkets only annoy me An ally has been slain Spare to a mission of despair And I alone am the remedy E' molto male Io volevo solamente prendere delle stack Cioè sapevo di piego Però pensavo vincessimo In realtà Nì per il positioning E anche per il tp E non ho rispettato Bo viego Che a quanto pare faceva già Dane già alto E' qualche altra cosa E' qualche altra cosa Sì Billy Meglio A Milano non ha giocato una gran Leg in face I meant Oh Magno E' qualche altra cosa E' qualche altra cosa No No, 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 no. Ah, batte. Sì Noi scadiamo bene con Cera, Can, Sirius, Camilla, Cain Però loro hanno Viego, Yasuo, Serapin, Zona Chi scadrà meglio, Gnar? Boh, travi siamo molto forti in late Forse Serapin sono più forte Non sono sicuro Il brutto fight che l'ho preso Pavelina che pazzo fai? Noi scadrà meglio, Gnar? Non lo so Non lo so, non lo so Rick Eh ma questi Pesto Non lo so Difígira Ok 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 Fultame gap E' enorme E loro hanno doomed sto game Scalano troppo bene Che mi la ha intattato hard No fucking way Ma no questa vasta razza Immaginavo avessi ulti ancora Grazie a tutti È dura ragazzi È dura è dura Vabbè dai qualche ping d'anama Non ci sono nessuno No escape Ops sono maxi a traer I am everywhere Grazie. Grazie. Ho preso parecchi soldini, eh. Vediamo un po'. Grazie. 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 Ah, holy shit quanti soldi. Troppi, no, troppe responsabilità ragazzi. Adesso ho l'ansia perché ho preso il T-Shutdown ho preso, non volevo prendere quella su Gnar. Cioè sto giocando bene ma è troppe, troppe responsabilità adesso che ho preso tutte le kill. No, 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 no. Not like this, perché se invece le altre le prendere e ti dici Omg you fucking idiot got all the shutdowns that you can't carry. E invece adesso cosa dico a mia discolpa se... eh? Che dico? Oh yes, this is the right choice. I was forged by the uncaring providence of war. Mmm. Rispettiamoli, ah comunque. Se abbiamo un cc, un singolo cc, io sono morto ed è disastroso. Che. Quanti in questo modo. Daiffanolo, che era un giro? Giauiti. Assurutano, che... Gia. Pozzarro, che... Ma non ho. Pessoi tommo. Pessoi tommo. Stai, ma non ho. Ok, ok Abbiamo, non lo so, tenuto fede Alla promessa fatta ai teammates Abbiamo cariato con gli shutdown, no? Abbiamo preso ultri house, abbiamo preso zona One shot out, non so che potessi sultare Abbiamo... no, 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 no What's up? La cosa veramente strana È che le cose sono successe Molto molto in fretta Alla prossima Alla prossima E perché mi avete invitato? Non capisco più niente Ragioniamo Cos'era quel fight me? Sai Rakan? Tutto il game fa di schifo Smettete di fare schifo Step up un po' Anche se mi avevamo smarfata Però poi perché siamo morti? Perché volevo aiutare Rakan a scappare È un povero Vabbè Magnarmid non è morto Vabbè non è morto Prima non è morto What? No era per... Infatti era morto Era morto Era morto No solo che l'ingager era criminal Cioè si erano fatti catturare Non è che hanno ingaggiato Per questo faceva schifo E comunque l'avevo giocata bene Adesso anche il flash Sarà appena stopwatch Non mi ha però sei tragica Piola C'era un po' Sbagliare tutto il game C'era un po' Grazie a tutti. E tra l'altro con le bin. E il bad game capitano a tutti. Oh mamma mia. Succulenti. Succulenti questi support. Ciao. Ciao. Ciao Sona. Ciao. Ciao Sona. Ciao. Patetico sei. Ciao. 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 Classica trollata post inib così avversari fanno baron e farmano inib. Ok Camilla invita ma non ho mai. Ok. 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 Grazie a tutti Raga hanno sprecato la ulti Un po' pepega No dove sono? Dove sono? Dove sono andato? Super deep I'm so deep Ok Ok The edge of night Prey edge of night Oh wow Ma perché abbiamo vinto? Nice Aspettate un attimino Ehi Ando via Chiudiamo allora Allora che non eriamo? Questa opportunamente si Diamo un culicino a Silas Dopo Luca Ok Ranked reward Si è fatto grande E è cresciuto in fretta Tante sì Va bene Non volevo disturbare ragazzi Magari sai Avete capito no? Salutate Luca Ciao Luca Salutate Sona Seraphin Altri personaggi La mia loro esatto Dove sono i minori? Dove sono i minori ragazzi? Datemi subito i minori Due poi? Dove sono gli altri? Dove sono gli altri? Grazie per il sub Wow che bello fra Grazie Ma Kane è ritornato forte? Non è mai stato forte Ancora non è forte Kane Possibile che per vincere Non debba fare questa fatica Ragazzi I shutdown Quanti shutdown abbiamo preso di fila? Due shutdown Una tri Ah che bello Tutti su di me Poi anche quella su Gnar Dopo Abbiamo preso Sei shutdown di fila Abbiamo preso Ed è che eravamo via Ma voglio farvi vedere il grafico di gold ragazzi Perché non era tragico Era peggio Non era tragico Era molto peggio Che tragico Guarda 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 Sapete quanto sono Settemila unità al minuto 16? Valgono quanto Non lo so Ventimila gold al minuto 30 Pazzesco